Ben trovati, nuovo appuntamento, nuova trasmissione, unica talk insieme tutti martedì per parlare dell'attualità, della cronaca per chiacchierare, dare consigli, per stare con voi e vogliamo aprire questo nuovo ciclo di trasmissioni con un tema di grande attualità legato sia alla cronaca ma legato anche alle bellezze del nostro territorio che però bisogna conoscere e frequentare in sicurezza. Ecco perché per questa prima puntata ho voluto avere accanto a me Marco Anemoli. Benvenuto nei nostri studi Marco che è il responsabile della diciannovesima delegazione lariana del soccorso alpino. Inizio subito io con qualche numero perché si è appena chiusa la stagione estiva, si sta aprendo quella invernale, c'è l'autunno con i cercatori di funghi e i numeri degli interventi del soccorso alpino sono già importanti. Nei primi nove mesi quasi quanto avete fatto lo scorso anno. 345 interventi, 105 solo a Lecco in Balsassina, nel 2021 erano stati complessivamente 430 quindi insomma ecco più o meno ci siamo. Io ho detto nove mesi ma in realtà sono otto mesi perché questi sono i dati al primo settembre. 20 le vittime e questo è un dato preoccupante perché la media è di due al mese. Malori, cadute, scivolate fatali. Il soccorso alpino, la diciannovesima delegazione lariana, anche questo lo ricordo io in realtà, copre un'area molto vasta, comprende anche per esempio la parte di Como, di Varese, di Pavia e sono dati che sono aumentati dopo il lockdown. Tra le cause, oltre malori, dovuti al grande caldo, 19-70% degli interventi e la perdita di orientamento. 29 casi, incapacità e sfinimento per 25 soccorsi. Ho dato i numeri, l'ho fatto io, entriamo nel merito. Allora, come è cambiata, come sono cambiati gli interventi in montagna, le escursioni in montagna e l'approccio alla montagna prima e dopo il lockdown? Come giustamente detto, i numeri sono sicuramente aumentati in questi ultimi due anni. Abbiamo visto, abbiamo potuto notare un grande ritorno degli escursionisti sulle nostre montagne, basta il fatto vedere case nella zona della Valsassina chiuse da anni, magicamente riaperte. C'è stato sicuramente una voglia di evalere dopo questi due anni di chiusura forzata. La gente ha riscoperto la bellezza di camminare sulle nostre montagne e chiaramente più persone frequentano le montagne, purtroppo l'atto negativo, più sono gli interventi a cui gli uomini e donne della 19esima delegazione dell'Ariana devono far fronte. Questo anche per un motivo che chi si è portato alla montagna, che l'ha riscoperta in questi ultimi due anni, non sempre è preparato per affrontarla. Anche un banale sentiero può portare sempre delle insidie e la prova ne è che comunque un numero, adesso ho qualche numero, un 30 persone dall'inizio dell'anno che hanno richiesto l'intervento per una perdita di orientamento già dà un'indicazione di quelle che possono essere le difficoltà di una fascia di escursionista. Insomma non so dove mi trovo, esco, non ho consultato magari le previsioni del tempo, non conosco bene il sentiero. Poi quest'anno è stata un'estate anche un po' particolare, molto calda, quindi tantissimi interventi per malori. Esatto. E questo pone un altro quesito, cioè il fatto che a volte prima di andare in montagna bisogna fare i conti con le proprie forze. Sì, l'uscita in montagna va sempre pianificata, le condizioni meteo, quest'anno abbiamo detto grande caldo che ha portato a sfinimenti, diversi interventi e sfinimenti perché abbiamo visto che lo zero termico era molto alto, quindi l'organizzazione parte dalla pianificazione dell'escursione, l'andare su motori di ricerca a vedere quelle che sono le relazioni dall'uscita, i tempi di percorrenza, quindi la preparazione oltre a quello che chiamiamo il capogita anche di quelli che lo seguono perché abbiamo visto, ma anche questo è stato qualche, forse un mese fa neanche, ragazzi giovani che una volta in vetta non ce la fanno più a tornare indietro perché hanno esaurito le energie. 250 volontari, è un numero importante quello della diciannovesima delegazione all'Ariana, insomma una ricca pattuglia di persone preparate, attrezzate che però a volte rischiano la loro vita per salvare quella degli altri, questo è giusto ricordarlo. Poi adesso si apre la stagione invernale e in inverno, forse ancora più che in estate, sicuramente più che in estate è fondamentale l'attrezzatura e anche qui voi ne avete visti di tutti i colori. Sì, proprio per quello, per inesperienza spesso non c'è più quella mentalità dell'essere attrezzati, noi comunque continuiamo a dirlo, a dare consigli a chi ce lo chiede, a fare tipo la trasmissione di oggi, a dare delle indicazioni sull'importanza dell'attrezzatura, dell'abbigliamento, dal passare da momenti caldi a freddi immediati, basta che scenda la notte o cambia la temperatura, possiamo avere degli sbalzi anche di 15-20 gradi. A volte siete voi che portate i ramponi in vetta le persone soccorse, io l'ho scritto più di una volta nei nostri pezzi di cronaca nel Tg. Diciamo che un intervento, quando andiamo sulle persone in difficoltà, che sono in grado di ritornare, diciamo, a valle con le proprie gambe, comunque li mettiamo in condizioni di sicurezza, quindi gli mettiamo i ramponi, un imbrago e con una manovra di conserva, quindi assicurato da uno dei nostri ragazzi, uno o due ragazzi che intervengono. Ecco, poi adesso c'è la stagione dei funghi, ci sono già state delle vittime, peraltro mi pare due vittime dall'inizio della stagione, cioè non è ancora iniziata in realtà, insomma dovrebbero essere questi giorni. Io so che lei ci teneva a dare un consiglio, perché insomma chi va a funghi è geloso del posto dove va, perché non vuole rivelare, però questo può essere un problema se poi accade dell'incidente, per cui? Il consiglio è comunque se non portare qualcuno a perlomeno condividere con i familiari la zona dove si va, perché spesso noi abbiamo un problema a capire quali sono le zone dove è andato e anche un sorvolo con l'elicottero in questo periodo risulta anche difficile, perché sugli alberi c'è ancora la foglia, quindi è difficile vedere dall'alto cosa ci sia sotto. E poi aiutarci con la tecnologia, ormai ognuno ha uno smartphone, quindi consigliamo magari, intanto di averlo sempre carico e magari portare dentro del power bank per tenersi sempre il telefono carico. E poi magari scaricare qualunque app cartografica che perlomeno in caso di richiesta di intervento si possano fornire quelle che sono le coordinate che sono immediate, la lettura immediata. Insomma dire dove ci si trova altrimenti per voi è veramente come cercare una... Sempre se la persona è in grado di dirla e se il telefono prende chiaramente, perché abbiamo anche questo tipo di problemi. Ecco, se il telefono non prende però ricordiamo che esiste un sistema particolare in grado di localizzare i telefoni cellulari se sono accesi, ma anche in una zona dove non prende. Ve ne doterete già in dotazione della Guardia di Finanza e presto arriverà anche per il soccorso alpino, se non ho capito male. Sì, è un sistema che si chiama IMSI Catcher che a telefono acceso permette di individuare il telefonino. Come giustamente si diceva, dove comunque non c'è linea questo sistema che attualmente è a bordo dell'ecottero della Guardia di Finanza e speriamo presto di averlo anche noi sui nostri droni professionali che a breve dovrebbero arrivare. Dove, dicevo, se non c'è segnale è ancora più facilitata la ricerca perché il cellulare colloca direttamente con questo sistema che non è altro che un ponte mobile e quindi è facile la ricerca. Ultima domanda, il tempo è davvero volato. A proposito di novità, fra un paio di giorni presenterete una novità importante che riguarda un accordo per poter effettuare i soccorsi anche con le moto da trial. È sicuramente un accordo tra due associazioni che comunque hanno già dato modo di poter lavorare insieme, che sono il soccorso alpino e la federazione motociclistica italiana, in questo caso della regione Lombardia. Io ho avuto modo di vedere entrambe le associazioni lavorare assieme durante il terremoto di Amatrice dove le macchine non potevano andare e andavano le moto. In questo caso pensiamo di poter usufruire di questa disponibilità della federazione motocicistica italiana sia magari nella prima battuta per correre i sentieri dove è possibile battere, ricordo magari i sentieri nella zona di Premana che sono molto lunghi e perlomeno magari aiutare i soccorritori a portare a monte dove è possibile quello che giustamente si diceva la parte logistica quindi corde, barelle, quindi rendendo più agevole lo spostamento delle unità terrestri da un punto a valle a un punto a monte. Grazie, grazie a Marco Anemoni per essere stato ospite nei nostri studi. Spero che i telespettatori abbiano ascoltato questi consigli davvero importanti prima di una gita sulle nostre bellissime montagne. Noi ci vediamo martedì prossimo con Unica Talk. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.